Certo, certo, ci voleva una prestazione come questa prima di, la partita importantissima che aveva mercoledì, però mancano ancora 3-4 giorni per la partita, quindi ci proviamo in questo momento, la squadra si meritava una vittoria come questa, quindi siamo molto contenti. La squadra pazza, perché si è pareggio con Cesena, prende 7 gol e poi viene con Roma a vincere. Il calcio è bello per queste cose, perché ogni domenica ti dà la possibilità di ripartire, quindi abbiamo fatto grande prestazione con le grandi squadre e l'abbiamo iniziato pure oggi con la Roma, facendo una gran partita, facendo il nostro gioco, approfittando tutti i ripartenzi, quindi abbiamo fatto una partita buonissima. A mio avviso era più rigore il primo che non il secondo, non so tu che sei stato l'ittima di entrambi i falli. Sì, pure per me, il primo era rigore netto, il secondo invece mi ha accompagnato nella giocata, mi ha travenuto un po', però... Mi ricordavo di Milano, ti ricordi il Milano, stesso fallo su di te all'inizio della partita? Eppure Milano l'ha fiscato, invece questo sì. No, non parlavo del primo fallo. Il primo fallo... Ah sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, non l'ha fiscato, però insomma si può stare, può sbagliare. La squadra si è ricompattata? Sì, sicuramente, moralmente, psicologicamente, come ho detto all'ultimo tempo, non andavamo bene, quindi ci voleva una prestazione come questa per prendere la fiducia nel nostro gioco.